Cosa possiamo fare? Facendo da 28 anni appunto e oggi con maggior cura e maggiore attenzione a quello che sono le nuove minacce. Noi già collaboriamo da tantissimo tempo con quello che sono le forze di polizia e abbiamo partecipato anche ad azioni per, ho fornito informazioni più che partecipato, forniti informazioni per poter arrestare dei cyber criminali in varie parti del mondo. Quello che facciamo tutti i giorni è mettere in condivisione quello che scopriamo, fornire informazioni sia alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia per poter poi contrastare questi crimini e le stesse informazioni le forniamo ai nostri clienti per poter proteggersi appunto da questo tipo di minacce. Quindi informare sicuramente in maniera tempestiva, dare, essendo poi noi una società commerciale, anche delle soluzioni in grado di recepire queste informazioni e in modo automatico poter bloccare quello che sono le nuove tipologie di minacce. Diciamo lavorare a fianco sia della pubblica amministrazione sia delle forze dell'ordine sia delle aziende, vederci come un partner che possa veramente dargli una mano nel contrastare quello che sono queste tipologie di attacco. Per darvi giusto un'idea noi abbiamo 120 persone che sono completamente strane dal business, che fanno questo tipo di ricerche per capire che cosa accade domani. Ecco, se riusciamo a capirlo un qualche ora prima offriamo un vantaggio importante a chi collabora con noi.